Non ha aspettato tanto per farsi sentire, Stefano Palazzi ha chiesto subito le carte alla procura di Catanzaro, vuole vederci chiaro, la giustizia ordinaria farà il suo corso, la giustizia sportiva altrettanto. Palazzi ha chiesto alla DDA un contributo riguardo alla conoscenza dell'episodio in ballo per meglio procedere in seguito. A dirlo è stato direttamente il procuratore della direzione investigativa di Catanzaro, Vincenzo Lombardo. Tra le mille pagine dell'ordinanza spiccano due formazioni calabresi di Lega Pro, la Vigor Lamezzi e il Catanzaro. Entrambe rischiano parecchio, ma le situazioni sono ben diverse, simili a quelli del Siena nel 2012, i fatti contestati al Club dei Tre Colli. Rischia una penalizzazione per responsabilità oggettiva in merito al tentativo di combine della gara Barletta-Catanzaro, in cui, secondo gli investigatori, sarebbero coinvolti il direttore sportivo Armando Ortoli e il giocatore Mimmo Giampà. A loro sarebbe stato chiesto di far perdere al Catanzaro quella gara, poi finita in realtà in pareggio. Più complicata la situazione della Vigor Lamezzi, pesanti le accuse mosse sul club di Via Marconi nelle persone del direttore sportivo Fabrizio Maglia, il responsabile del marketing Felice Bellini e il presidente lamedino Claudio Arpaia. I tre figurano nell'ordinanza sotto la voce accordo di due partite, Vigor Lamezzi a Paganese e Barletta Vigor Lamezzi. Grave quanto scritto nell'ordinanza, soprattutto in merito alla seconda partita, in cui, si legge, sarebbe stato offerto denaro o altra utilità di vantaggio per far terminare la sfida con un pareggio con gol, incontro conclusosi effettivamente con il risultato di 3-3. Qualora tutto venisse confermato, questo sarebbe il lecito sportivo e la Vigor Lamezzi al pari del Barletta rischierebbe la retrocessione d'ufficio.